Ciao a tutti, in questo video voglio parlarti della legge del karma nel buddismo. Allora, che cos'è la legge del karma? È la legge causa-effetto, cioè a ogni nostra resistenza, a ogni nostra azione, corrisponde comunque un effetto, un risultato. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare e farmi delle domande in apposite live mirate ai quali darò delle risposte. Allora, la legge del karma è una legge universale che ci tiene collegati al mondo al samsara, cioè a questo ciclo di nascite e morti che incessantemente, diciamo, si sviluppano. La legge del karma è una legge causa-effetto, cioè le nostre vite precedenti influenzano la nostra vita presente e le azioni che facciamo nel presente vanno a, diciamo, strutturarsi poi nel futuro. Il karma, quindi, è un qualcosa di complesso. Ogni azione che noi facciamo è un karma, quindi, e il karma si sviluppa attraverso una sensazione che può essere una sensazione di piacere, di sofferenza o neutra. Le azioni che noi facciamo sono nello stesso tempo un seme, cioè un seme, ma anche creano una condizione per far maturare un seme precedente. Quindi, può essere che un'azione fatta con intenzione positiva faccia generare un seme karmico negativo del passato. L'esempio che faccio di solito è quando, ad esempio, vediamo un incidente in un'auto, ferma, in panne, scendiamo con l'intenzione positiva, quindi di fare del bene, di aiutare quella persona, ma arriva, sopraggiunge un'altra auto, ci travolge e ci uccide, ad esempio, ci ferisce, insomma. Quest'azione karmica, quindi darà poi i suoi frutti positivi successivamente, magari in un'altra vita, se siamo morti, o ci fornirà una buona rinascita, ma la stessa azione ha creato le condizioni per far maturare un seme karmico precedente. Quindi, il karma, vediamo che è complesso. Un karma, un'azione per essere completa, deve richiedere una consapevolezza, un'intenzione, un eseguire l'azione, un rigioire per l'azione eseguita. Per liberarci, diciamo, da questo stato di, da questa prigione karmica, il Buddha, Buddha storico Shakyamuni, sostiene che bisogna iniziare a praticare il Dharma, cioè la fermezza della mente, la liberazione dei veleni mentali e la pratica costante della gentilezza. I veleni mentali sono l'ignoranza e l'attaccamento, e poi tutti i loro derivati, l'invidia, la gelosia. Per iniziare questo percorso, diciamo, si deve essere consci delle quattro nobili verità, che la vita è sofferenza, che la sofferenza ha una causa, che è il karma e l'ignoranza, che si può uscire dalla sofferenza, e che esiste un sentiero per uscire dalla sofferenza. La meditazione è uno di questi mezzi. Praticare la meditazione significa comprendere il vuoto di esistenza intrinseca, cioè comprendere che noi, non è che siamo vuoti, che non esistiamo, ma siamo diversi da quello che crediamo di essere. Non siamo delle monadi, ma siamo interdipendenti e collegati con tutto il resto. e siamo in interconnessione con tutto il resto. E non possiamo esistere senza tutto il resto. Quindi siamo, di fatto, possiamo essere tutto e il contrario di tutto. Quindi di fatto siamo vuoti di esistenza intrinseca. Beh, questo, basta pensare che qualunque evento può essere visto in infiniti modi, completamente diversi, e quindi di fatto lo stesso evento è vuoto di esistenza intrinseca. Dobbiamo quindi liberare la nostra mente, lasciare la presa, smettere di volere il controllo e invece praticare la leggerezza, la gentilezza, la compassione e raggiungere questo stato di illuminazione. Questo ciclo, diciamo, di condizionamento è il samsara. Imparare, diciamo, ad uscire dal samsara determina il nirvana. Il raggiungimento del nirvana è uno stato interiore, così come il samsara è uno stato interiore. È uno stato interiore che si esprime in sei regni di esistenza. Il regno degli dèi, il regno dei semidei, il regno umano, il regno animale, il regno degli spiriti famelici, dei preta, e il regno infernali. Questi regni, diciamo, così come il nirvana, più che luoghi fisici, sono degli stati interiori, perché la nostra interiorità ci porta a vivere, diciamo, nell'esteriorità. Ma in tutti questi regni, se non si raggiunge l'illuminazione, si vive comunque uno stato di sofferenza. Nel regno degli dèi, la sofferenza è molto ridotta e si manifesta alla fine della vita, una vita lunghissima nel mondo degli dèi. Però, verso la fine della vita, se non si è prodotto karma positivo, si raggiungerà uno stato di sofferenza, uno stato di decomposizione, e si andrà a raggiungere, poi si potrà avere delle ricarnazioni anche nei regni inferiori. Comunque in tutti questi regni, si è comunque immersi nel samsara, e quindi nel ciclo delle rinascite e delle morti. Non importa quanto lunga sia la vita, ma si andrà comunque a una trasformazione. La trasformazione è la morte. E quindi uscire dal samsara vuol dire uscire da questa condizione. La medicina, diciamo, è il dharma, il medico è il Buddha, e l'essere realizzato, diciamo, rappresenta l'illuminazione, rappresenta la guarigione. Il dharma è appunto la cura. Voglio poi farò un video dove spiegherò i veleni mentali, cosa sono e come si può liberarci da questi veleni mentali. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto mettere un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai farmi delle domande, alle quali darò delle risposte in apposite live. Ciao a tutti!